Lo chiamavano il padre della politica turca, Suleman Demirel, l'ex primo ministro e capo dello Stato turco, scomparsa ad Ankara all'età di 90 anni, ha infatti dominato nel bene e nel male la vita politico-istituzionale della Turchia per quasi mezzo secolo. Sette volte premier e successivamente presidente è passato indenne attraverso colpi di Stato, stagnazione economica e la stagione delle violenze sociali. Conservatore pragmatico, Suleman Demirel, disposto a tutte le coalizioni, iniziò la sua carriera politica nel 1960 dopo il primo colpo di Stato militare. I suoi due mandati alla guida del governo vennero inseguito stroncati da altri due golpe da parte dell'esercito nel 1971 e poi nel 1980. Oratore eccellente si ritirò dalla vita politica dopo la fine del mandato presidenziale, ma non si trattò di un buon ritiro, perché Suleman Demirel continuò fino alla fine a dispensare consigli, da una posizione che lui stesso definiva sopra le parti.